ma questa luce mi sta facendo esaurire ma che è successo e non lo vedi che si spegne sempre no mamma quella fa solo un po stretta no 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 fatti ferma ti fai male eh ma come mi faccio male fatti ferma viene tuo fratello dopo e se ne occupa lui ma boh non ce la faccio più veramente io non ce la faccio più in questa casa ma che è successo si devono portare gli scatoloni in soffitta mi fa male la schiena e nessuno che viene qua e dice mamma ti aiuto mai nessuno ti dò una mano io no 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 fermati sono pesanti ma come sono pesanti lascia stare ci pensa tuo fratello dopo eh ho capito ma non mi funziona il telefono ma se stai parlando non funziona la suoneria esatto ma devi tirare solo la linguetta che sta dietro no scusami no a mia figlia no no vabbè ma poi dopo me l'ha aggiusta mio figlio non ti preoccupare pronto che è successo no 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 non è successo niente no 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 è solo che dovresti venire a casa ad aiutarmi a fare una cosa ora e come faccio lo so che abiti a due ore da qua e quindi se mio fratello viene ad aiutarmi va bene arrivo ma che devo fare devi venirmi a pulire mamma ma addio mio ma tu non fai mai un cazzo